ciao ragazzi siamo qui con lo xiaomi mi a1 dispositivo di xiaomi con android one quindi versione di android stock purissima senza personalizzazioni la classica mi ui di xiaomi quindi troverete android senza nessuna funzione particolare questo è un passo importante per l'azienda cinese che fa questo dispositivo conquistando una marea di 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 utenza che cerca un dispositivo stock come era il vecchio motorola moto g insomma questo costa circa 200 euro per le caratteristiche che offre veramente sottile in alluminio unibody il lettore di impronte la doppia fotocamera posteriore di ottima qualità e android one diciamo che sono tutti i soldi spesi benissimo detto questa settimana andremo a vedere come va però le prime impressioni sono veramente eccellenti io adesso l'ho ripristinato da zero per farvi vedere qual è la configurazione iniziale di android one e xiaomi mi o1 come vedete vi parte in automatico con le configurazioni va accriptata la memoria interna adesso lui parte ovviamente sempre android one in bella vista quindi il logo mi è veramente in secondo piano entra qui entra la forza di google che gestirà tutti gli aggiornamenti di questo dispositivo solo lui sta facendo la configurazione iniziale che è più lenta rispetto agli altri ma ci sta mettendo un po di tempo e qui ci sono i tre tasti soft touch indietro home è quello per accedere alle funzioni tasto di accensione il bilanciare del volume da questo lato c'è solamente lo slot per l'inserimento della sim sopra il microfono è l'IR il cosa infrarossi sensore infrarossi le casse usb type c e anche il jack da tre pollici e mezzo qua troviamo la classica fotocamera poi i sensori sono sotto e la capsula auricolare sul retro lettori di impronti digitali bellissima la versione nera sembra che non c'è il loghetto mi doppia fotocamera e doppio sensore a led quindi adesso l'abbiamo resettato da zero da facendo la factory reset da un hard reset da da custom recovery questo qui è partito da zero adesso mi chiede la lingua ovviamente vado ad accedere l'italiano italiano svizzera inizia lui mi dice che sta cercando la simbolo non la trova che non c'è configura un nuovo dispositivo lui mi cerca tutte le reti wifi quindi vado a inserire la password della della mia rete il touch tra l'altro è molto sensibile e va benissimo cioè inserito la password in un secondo adesso si connette sta facendo la configurazione e vede se ci sono aggiornamenti iniziali io prima di resettarlo ho fatto un aggiornamento da 75 mega quindi non credo che ce ne siano aggiornamenti nella giusta adesso ti chiede sempre l'account google vado a inserire le user name e password sempre tastiera velocissima quindi non si sbaglia un collo con 5,5 configurazione servizi iniziali scopre cosa vuoi fare vuoi continuare andare a vedere attivare la delle posizioni si che possiamo attivare poi se facciamo l'accesso con uno dei servizi mi mi andiamo avanti e insomma utilizzato voce contro la progettiva aggiungere un altro account però noi lo faremo tutto in successivamente mentre siamo qui col telefono appena rinizializzato vedete non ci sono applicazioni di nessun genere quindi c'è foto ma inizia arrivare alle mail ma adesso aumentiamo la luminosità e base è pulitissimo non ci sono c'è qui c'è google now e non c'è nient'altro il drawer si accende così chrome tutto il resto le applicazioni di base zero personalizzazione shomi qui c'è la barra per la ricerca google persistente quindi non è possibile rimuovere e niente nelle prossime settimane dovremo vedere un po la recensione di questo xiaomi mi 1 ciao